Se qua non torni alla S di qua? No, quando sono là giriamo fuori Quindi al suo sinistro? Sinistro, che paltano! Gli enduro fasulli Facciamo gli enduro fasulli Facciamo gli enduro fasulli Facciamo gli enduro fasulli Qua' bec anteri cuore è il connesso C'è chiara, fa' lo so' spiegure Ficcola, fissure Ficcola, fissure Ficcola, rumore Ficcola, fissure Ficcola, fissure Ficcola 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 ho fatto una scodata della madonna quando ti perdi devi seguire il metano segui i paletti del metano e ti portano a casa per forza e i i i i i i i i Oh, oh. Grazie a tutti. 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 Adesso saltiamo via e basta. Ci toccherà fare il pezzo di lama. I guanti qua bagnati fanno schifo. Ma fanno veramente schifo. No, gli altri tenei questi qua fanno veramente schifo. E vedi qua? Beh, a parte che non è alta. E poi fa come l'altra volta che si affonda e restiamo dentro. Quindi evitiamo che è meglio. E perlomeno non scivola più un cavolo. Ha lavato via. E' solo agli all'inizio che scivola. Sì. Vedete che proprio ci buttano qualcosa agli all'inizio. E' quello che esce dal lavaggio. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa secondo me. E' meno vicino qua. Qua è molto... Oh, queste no, le hanno buttate giù adesso, eh. Chiacchio arrivano. Eh, qua. L'unico posto protetto è questo. Perché di là c'è la lavavia, secondo me. L'unico posto è più alto, ma secondo me è questo qua. Per attaccare la scaletta. Sì. Perché... Ma qua come fai? Eh. Il problema è che c'è anche l'aria accordi. Pensate alla bagnata inclinata a 45 gradi. Sì, quello sì. Con il falco, lo zio tese, fa male. Lo spazzare solo da guarda. Ma ci facciamo male anche noi qua. Eh, se no... Che bella, gli dai una macchetta da 50 kg di lì. E lui, guarda, ci fai finissimo. Ma ci fai anche più ammato. No, anche perché cassa, però è un peccato non avere il...